Musica Ben ritrovati, nuova edizione del TV giornale di Telestense, edizione che apriamo subito ufficializzando. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ce l'ha fatta ancora, vince al primo turno con una percentuale vicina al 58%. Vi daremo i dettagli, anche perché mentre stiamo non in onda, ancora non abbiamo ufficialmente tutti i seggi scrutinati, ma insomma ormai il risultato è più che ufficiale. Per quello che riguarda altre ufficialità, nei paesi con più di 15 mila abitanti, quindi in cui si potrebbe andare al ballottaggio, ce la fa ancora Andrea Baldini ad Argenta, mentre invece si andrà al ballottaggio a Coparo. E poi vedremo anche i risultati in tutti gli altri comuni della provincia di Ferrara. Parleremo ovviamente anche delle europee, facendo un bilancio di quello che è successo in queste ultime 24 ore, ma parleremo anche di altre notizie, tra cui cronaca, danneggia l'auto e aggredisce i carabinieri. E poi spazio anche alla musica, con un appuntamento del gruppo dei 10, tra jazz e poesia, appuntamento che si terrà giovedì prossimo. Ma come dicevo, apriamo subito parlando di politica. Alan Fabri, riconfermato sindaco di Ferrara. Come dicevo, al momento non abbiamo ancora tutti i seggi, per cui risultato ancora non ufficiale al 100%, ma insomma ormai scontato per quello che riguarda l'esito, anche perché Alan Fabri ottiene circa il 58% dei voti. Ricordiamo che la maggior parte dei voti arrivano dalla sua lista civica. Alan Fabri sindaco, che ottiene circa il 31%, 11% per Fratelli d'Italia, vicino all'8% la Lega, al 5% Forza Italia, al 2% qualcosa per Ferrara al centro, 2,50% circa, e attorno all'1% Unione di Centro. Fabio Anselmo invece si assesta attorno al 36%, con la maggior parte dei voti che arrivano dalla PD, che ottiene più del 22%, circa al 6% la lista civica di Anselmo, poi a seguire sotto il 3% il Movimento 5 Stelle, e poi ancora i civici, Ferrara Bene Comune, Azione Civica Ferrara, la sinistra unita per Anselmo e il patto per Ferrara Azione, siamo europei. Ricordiamo anche i dati degli altri due candidati, Anna Zonari ottiene un dato vicino al 4%, ripeto ancora, dati non ufficiali al 100%, ma ormai quasi definitivi, e il 2% per Daniele Botti. E ovviamente di questo poi parleremo nelle prossime edizioni del TV Giornale di Telestense. Vediamo anche quello che è successo in provincia, dove Andrea Baldini si riconferma sindaco di Argente, in questo caso con una percentuale prossima al 54% dei voti. Ricordiamo appunto un candidato del centro-sinistra, mentre invece Gabriella Zalli per il centro-destra ottiene il 44% e poco meno del 2% invece Laura Ferrua di Alba Nuova, per quello che riguarda appunto Argenta. Si andrà invece al ballottaggio a Copparo, perché Fabrizio Pagnoni, sindaco uscente, candidato di centro-destra, non ce l'ha fatta raggiungere il 50%, il dato definitivo è 47,27% e se la vedrà con Enrico Bassi, che ha ottenuto il 41,01%. Ricordiamo che candidati a Copparo c'erano anche Luca Fedozzi, che ha ottenuto il 10,07%, e Giovanni Mazzorana, che ha ottenuto l'1,02%. Questi i dati relativi quindi ai tre comuni, che superano i 15.000 abitanti, ma a questo punto facciamo bilancio per vedere come è andato in provincia, anche nelle località minori. Fabio Tosi è ancora il sindaco di Fiscaglia, il primo cittadino uscente con il 68,58%, batte lo sfidante Roberto Manzoli, fermo al 31,42% per il comune di Fiscaglia. A Yolanda di Savoia, Elisa Trombin torna a ricoprire il ruolo di sindaca con il 60,74%, Trombin batte della cecca con il 29,73% e Ferro con il 9,53%. A Lago Santo riconferma per il sindaco uscente, che si è presentato con una lista civica, Cristian Bertarelli, con il 65,29%, sarà ancora il primo cittadino di Lago Santo, battendo il candidato di centrodestra Bonazza, fermo all'11%, e il candidato del centrosinistra Pambianchi al 23,68%. A Masitorello, Samuele Neri sarà il nuovo sindaco del comune con il 53,7% contro il 46,93% di Nicola Padovani. A Mesola, Duo, è la nuova sindaca e succede a Padovani, l'ex primo cittadino sconfitto nella sfida, Duo, che ha guadagnato il 50,68%. Riconferma per la sindaca uscente Elena Rossi a Ostellato. Elena Rossi, che ha guadagnato il 42,42%, sostenuta dal centrosinistra. Rossano Forlani, per la lista insieme per Ostellato, ha guadagnato il 34,43%, mentre Michele Brancaleoni, il di Vivio Ostellato, il 12,6%. Antonio Ricci, sostenuto dal centrodestra, il 10,55%. Appoggio Renatico, riconferma per il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra, Daniele Garuti. Garuti, che ha guadagnato con il sostegno del centrodestra, il 60,27%, mentre Francesca Bergami, con il centrosinistra, il 39,73%. A Riva del Po, Daniela Simoni e la nuova sindaca con la lista Gente di Riva del Po. La nuova sindaca ha guadagnato il 55,51%, battendo Astolfi, del centrosinistra, con il 25,78% e Roboni, con il 18,71%. A Voghiera, Paolo Lupini, riconfermato dopo il primo mandato, con il 64,24%, battendo Lobiundo, sostenuto dal centrosinistra, con il 35,76%. E non abbiamo citato in questo servizio Trasignana perché c'è un caso più che particolare, ovvero i due principali candidati, Laura Perelli, la sindaca uscente, e Mirko Perelli, candidato di centrodestra, hanno ottenuto lo stesso identico numero di voti, entrambi 1717, quindi entrambi con una percentuale del 48,52%, per cui anche se il comune non raggiunge i 15.000 abitanti, andrà al ballottaggio. Ovviamente ricordiamo che c'era però anche un terzo candidato, Paola Marchi, di La Voce di Tresignana, che ha ottenuto il 2,97%. Quindi ricordiamo Mirko Perelli per il centrodestra, Laura Perelli per il centrosinistra, in questo caso sindaca uscente di Tresignana. Torneremo comunque a parlare ancora di amministrative più tardi, prima della fine del TV giornale, adesso invece parliamo anche di europee, perché il prossimo Parlamento vede delle novità, la maggioranza che regge, ma avanzano le destre e arretrano il centro liberale e i verdi. Sentiamo il servizio. Da queste elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo viene un messaggio chiaro, che nel partito dei moderati di centro e centrosinistra crollano le maggioranze di governo di Francia e Germania, che in questi anni hanno rappresentato l'asse politico di governo dell'Unione europea anche nei rapporti di forze interne all'Assemblea parlamentare. Avanzano negli stati dell'Unione i partiti di centro-destra e di destra, se ferma soprattutto il partito trasversale della pace, o meglio di coloro che chiedono di far tacere le armi e di mettere fine alle carneficine, attraverso l'apertura di tavole di negoziazione, nei due terzi di guerra più vicini ai votanti europei, cioè russo-ucraino e israelo-palestinese. A metà mattina i risultati, ancora parziali perché soltanto 8 paesi su 27 avevano concluso lo spoglio, davano un Parlamento con 185 seggi al Partito Popolare europeo, 9 in più rispetto al Parlamento uscente, 137 seggi ai socialdemocratici, 2 in meno rispetto al 2019, 80 seggi, cioè 22 in meno, a Renew Europe, mentre il Partito Conservatore dei Formisti europei con 73 seggi ne guadagnerebbe 4. 8 invece in più a Identità e Democrazia, mentre Verdi e Alleanza Libera europea con 52 seggi registra una perdita secca di 19 deputati. Il gruppo della sinistra, il Parlamento europeo, perde un seggio, ma si unirà con i Verdi. Infine, non iscritti, con 46 seggi, registra una perdita secca di 16 deputati. E adesso dunque vediamo un identikit dei principali gruppi del Parlamento europeo, dove si collocano i partiti italiani. Lo vediamo nel servizio. Il gruppo del Partito Popolare europeo è il gruppo più numeroso e più vecchio nel Parlamento dell'Unione. Il suo obiettivo è realizzare un'Europa più competitiva e democratica, dove le persone possono costruire la vita che vogliono. È il partito di maggioranza relativa nel Parlamento uscente e ha sostenuto con i socialdemocratici e i liberali di Renew Europe la commissione uscente preseduta da Ursula von der Leyen. Per l'Italia vi aderiscono Forza Italia e la sottierola Volkspartei. I socialisti democratici europei sono il secondo gruppo per numero di parlamentari. Hanno sostenuto la commissione Frontline con il Partito Popolare europeo e i liberali di Renew Europe. Vi aderiscono per l'Italia il Partito Democratico e il Partito Socialista italiano, anche se i candidati di quest'ultimo in queste elezioni corrono con la lista Stati Uniti d'Europa. Renew Europe è un gruppo politico liberale. Si è costituito il 2 luglio 2019 a seguito delle elezioni europee di quell'anno ed è erede dell'Alleato dei Liberali e Democratici per l'Europa, sigla ALDE. Ha sostenuto in questa ultima legislatura la commissione uscente. Per l'Italia vi aderiscono Azione, il Partito di Calendi, Italia Viva, il Partito di Matteo Renzi. Gli eletti della lista Stati Uniti d'Europa, che comprende anche Italia Viva, più Europa, l'IPDEM, Radicali Italiani e l'Italia C'è, confluiranno in Renew Europe nella prossima legislatura. Il Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, con 73 seggi e 4 in più rispetto al passato, è nato il 22 giugno 2009 da partiti conservatori di destra, alla sua fondazione prevalentemente di centrodestra, che si dichiarano eurorealisti e antifederalisti, in quanto si oppongono al federalismo europeo. È noto dal 2016 al 2019 come Alleanza dei Conservatori e dei Riformisti in Europa. Sua presidente dal 2020 è Giorgia Meloni. Identità e democrazia è un gruppo sovranista nato nel 2019 dalle ceneri d'Europa delle Nazioni e della Libertà. Vi aderisce la Lega per Salvini Premia, accanto ad altre formazioni di destra e anche di destra estrema, come il Partito Eustriaco che fu di Jorgaider e il Rassemblement National di Giordano Bardella e Marine Le Pen. I Verdi, Alleanza Libera Europea, sono un gruppo ambientalista e di sinistra e rappresentano il grande sconfitto delle elezioni 2024, con 19 seggi in meno. Il gruppo della sinistra Parlamento Europeo è un gruppo che comprende formazioni di sinistra e di estrema sinistra. Gli eletti di Alleanza Verdi e Sinistra confluiranno in questa formazione politica nella prossima legislatura. Il gruppo dei non iscritti, cui aderisce il Movimento 5 Stelle, registrerebbe invece, con 46 seggi che sembrano stati ottenuti, 16 seggi in meno, mentre The Left, con 36 seggi, perde un solo seggio. E terminiamo questa pagina dedicata alle europee, parlando appunto della vittoria che è stata di Fratelli d'Italia, c'è stata un'affermazione anche del PD, buono il risultato di Verdi e Sinistra italiana, mentre invece sono andate decisamente meno bene le formazioni guidate da Calenda e da Renzi. Questi dunque i risultati ottenuti dai partiti italiani nel prossimo Parlamento Europeo, con 24 seggi a Fratelli d'Italia, 21 al PD, 8 al Movimento 5 Stelle, 8 a Forza Italia, 8 alla Lega, 6 all'Alleanza Verdi e Sinistra e 1 al City Roller Volkspartei. Nessun seggio alle altre formazioni politiche, ma quindi sentiamo i dettagli in quest'ultimo servizio dedicato appunto alle europee. È certamente la leadership della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che va al successo maggiore a livello nazionale di queste elezioni europee. Come lei stessa ha commentato, la maggioranza di governo tiene, ma è nella sua composizione interna che cambiano gli equilibri. Infatti al crescere dei consensi di Fratelli d'Italia, con un 28,8%, anche rispetto alle politiche del 2022, dove si fermava il 26%, si registra un crollo della Lega, soprattutto se si confrontano questi ultimi dati con quelli del 2019, in cui la Lega, con Salvini Premia, superava il 34%, mentre oggi si ferma a poco più del 9% ed è superato da Forza Italia, che si avvicina invece al 10%. Borosco Carlo, sul fronte opposto, del Movimento 5 Stelle, che non arriva al 10%, e il 2019 era al 17%, mentre crescono in modo, per così dire, inaspettato l'alleanza verde-sinistra con il 6,6%, oltre i 4 punti percentuali rispetto al 2019, e il Partito Democratico di Elie Schlein, che supera il 24%, accreditando la linea politica tenuta dalla segretaria nazionale del PD, che con la sua azione coerente e ferma sull'unità delle opposizioni e sui temi di politica interna, cioè sanità, salario minimo, lavoro, contrasto all'autonomia differenziata, ha incassato da sola un risultato che molti non si aspettavano e un deciso balzo in avanti rispetto ai risultati delle politiche del 2022, dove il PD si è fermato al 19%, acquisendo oggi credibilità e vantaggio nel faccia a faccia politico con la maggioranza di governo. Bene l'unità tra le forze politiche che stanno dalla stessa parte, male la divisione. Questo è il verdetto degli elettori, che premiando Elie Schlein hanno bocciato da una parte azione di Calenda e dall'altra Italia Viva di Matteo Renzi. Purtroppo il voto per il Parlamento europeo sconta un pessimo risultato per quanto riguarda l'affluenza leone degli italiani, che si è ridotto ulteriormente con un 49,68% dell'8 e 9 giugno, rispetto alle europee del 19, in cui aveva votato invece il 56,9% degli italiani. E prima di chiudere il TV giornale vi ricordo che torneremo a occuparci ancora di amministrative, ma adesso come vedete alle mie spalle parliamo di cronaca, parliamo di una notizia, dove si parla del fatto che ha infranto il parabrezza dell'auto del fratello parcheggiata sulla strada utilizzando un bastone. Poi all'arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni cittadini preoccupati, ha tentato di colpire i militari senza però riuscirci. È successo domenica a Bondeno, si parla di un uomo di 36 anni, in evidente stato di escandescenza, appena si è accorto della presenza dei carabinieri, il 36enne ha gettato il bastone, ma quando gli è stato ordinato di fermarsi, ha tentato di colpirli. Bloccato dai militari e dopo le formalità di rito, l'uomo di origine magrebina è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Ferrara, dove è rimasto in attesa della convalida di arresto, arrivata lunedì 10 giugno da parte del Tribunale di Ferrara. In corso le indagini per capire le motivazioni del gesto volontario, e il 36enne è stato visitato da personale sanitario. Parliamo anche di musica, perché tra la poesia di Corrado Govoni e l'estrosa fisarmonica di Max Tagliata, arriva un nuovo appuntamento con il Gruppo dei Dieci. Versi e musica insieme per la più antica combinazione artistica, il nuovo appuntamento di tutte le direzioni in summertime. Giovedì 13 giugno l'appuntamento è a Vigarano Mainarda, ma sentiamo il direttore artistico del Gruppo dei Dieci, Alessandro Mistri. Secondo appuntamento, tutte le direzioni in summertime di giovedì. Devo dire che è molto conseguente a quello che abbiamo già tenuto come apertura della stagione. Vi spiego anche perché. Torniamo a Vigarano Mainarda, siamo pertanto nel nostro territorio di elezione, che è appunto lo spirito. Una serata particolare perché è dedicata, si chiama Calici diversi, da cui si capisce che è l'unione fra il bere importante, interessante e la poesia. Devo dire che in poesia spero che sia letta in un modo sufficientemente ortodosso, perché un po' per metterci anche quella componente giocosa abbiamo deciso di affidarla come lettura ai notai che ci sono dentro al Gruppo dei Dieci. Siamo in 6 su 19, confidando sui miei colleghi, insomma spero che alla fine sia un qualcosa che possa entrare, piacere e accompagnare, anche perché abbiamo la fortuna di avere la presa armonica di Max Tagliata, che fa da filo conduttore musicale. A chi è dedicata però questa serata, perché non parliamo di poesia in generale, a un grandissimo poeta, che è un nostro poeta, cioè Corrado Govoni, che è nato a Tamara nel 1884 e che io ho scoperto purtroppo, dopo averlo letto, fra l'altro, nell'antologia quando ero giovane, io bambino, direttura a scuole medie, che adesso praticamente è scomparso dai cataloghi dei libri. E pertanto credo che sia un'occasione importantissima per ricordare un poeta che è stato uno dei più significativi della prima metà del secolo scorso, che ha vissuto tutta la sua esperienza letteraria seguendo un pochino quello che succedeva ovviamente nella società, ha avuto anche questo lutto fondamentale nella sua esistenza quando è stato ucciso suo figlio Aladino alle fosse erediatine e anche questo si rivede, si sente nelle sue ultime poesie. Insomma, vorremmo restituire questa grande dignità. Govoni ci incantava con la sua mercanzia venduta a buon prezzo e in una baracca suburbana. Il bambino e il vecchio trovavano sempre qualcosa che nessun altro aveva mai portato e che avevano desiderato per un anno intero. Verrà, pensavano, il signor Govoni con la sua bancarella. Leonardo Sinisgalli, l'età della luna. Non ci sono appena state le elezioni. Mi piacerebbe tanto che chiunque abbia vinto ricordasse sia a Copparo che a Ferrara soprattutto che esiste un grande poeta e che senza la cultura non riusciamo a dare da nessuna parte. E prima di chiudere torniamo a occuparci ancora le amministrative. Vi ricordo ancora nel momento in cui stiamo realizzando il TV giornale non abbiamo ancora i risultati definitivi, mancano ancora le ultime sezioni per essere scutinate ma ormai l'esito è più che mai ufficiale. Allora vi ricordo le percentuali. Alan Fabri, riconfermato sindaco della città di Ferrara in questo momento con il 57,72% dei voti. Ovviamente potrebbe esserci qualche piccola variazione ma più o meno siamo attorno alla 58. 36,33% invece per Fabio Anselmo, 3,85% per Anna Zonari e 2,10% per Daniele Botti. Vediamo giusto qualche dettaglio sulle liste. Ha ottenuto il 30,44% la lista Alan Fabri sindaco mentre invece il 22,7% il Partito Democratico, l'11,21% Fratelli d'Italia e il 7,49% la Lega. Ricordiamo anche che la civica Anselmo sindaco è al 6,08 mentre a 5,18% Forza Italia. Poi vi via tutte le altre liste che hanno sostenuto i vari candidati. Ulteriori aggiornamenti ovviamente ve li daremo sia sul sito telestense.it ma anche nelle prossime edizioni del TV giornale di Telestense. Per cui per adesso grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.